Sabato dell'ottava settimana del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù e i Suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e, mentre Egli camminava nel Tempio, vennero da Lui i capi e sacerdoti, gli iscrivi e gli anziani, e gli dissero, Con quale autorità fai queste cose, o chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro, vi farò una sola domanda, se mi risponderete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il Battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini, rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto. Diciamo dunque, dagli uomini. Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e, mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui capi e sacerdoti. Gli scribe gli anziani e gli dissero, Con quale autorità fai queste cose, o chi ti ha dato l'autorità di farle? Gli scribe e gli anziani del Vangelo di oggi si comportano come quei commercianti invidiosi, che si sentono sempre minacciati nei loro affari dagli altri, e per questo cercando di rendergli la vita impossibile. Gesù sembra rovinare i loro affari, e per questo li domandano di favorire i documenti. Il messaggio di Gesù non può essere preso sul serio da simili persone. Ma Gesù disse loro, vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Gesù sa bene che non ammetteranno mai la straordinarietà di Giovanni, e non lo faranno per mancanza di lealtà. E a chi non è leale, non si può nemmeno dare una cosa vera. È infatti forse il problema di tutti noi, che facciamo fatica a riconoscere nell'atteggiamento di questi scrivi, e di questi anziani, la nostra medesima mentalità. Il più delle volte, infatti, a noi interessa cadere in piedi, e non prendere sul serio la verità che Cristo è venuto ad annunciarci. Invece, una fede autenticamente cristiana, innanzitutto è l'esperienza di lasciarsi mettere in crisi dal messaggio di Cristo, di sentire rivolte personalmente a ciascuno di noi le sue parole, di smettere di volerlo manovrare e interpretare a nostro piacimento, e soprattutto di pensare che Gesù è venuto a toglierci qualcosa. Il cristianesimo non inizia quando smettiamo di sbagliare, ma quando cominciamo ad essere così leali da ammettere i nostri sbagli. Rispondendo a Gesù dissero, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. La vita spirituale è impraticabile nell'ipocrisia. Bisogna prima deporre le maschere, e poi si possono ricevere davvero le risposte che cerchiamo.